E si comincia, è iniziata nuova ischia Afro-Napoli United. Ciro Saurino, il cross in mezzo per Arcobelli, posizione regolare, pallone alto. Scorrono tanti secondi, ora si va alla battuta del calcio di pulizione, attenzione al tiro dell'Afro-Napoli, la parata. Ha potuto sistemare, ancora Ciro Saurino ha il tempo di andare al cross, pallone deviato un po' da tutti, rovesciato addirittura di Gianluca Saurino. Per Richiello, cross morbido, per Arcobelli, pallone finisce a Matarese, calcio d'angolo. Si riparte con il secondo tempo tra Nuova Ischia e Afro-Napoli United. Tutto dura della ripresa, quindi un'altra mezz'ora da giocare. Calcio di punizione nel frattempo per l'Afro-Napoli, già battuto, attenzione al gol dell'Afro-Napoli. Spila a botte. Richiello, ancora Ciro Saurino, cross per Gianluca che prova a girarsi, rovesciata, pallone alto. Semplicemente perché questa è stata la segnalazione del tabellone, segnalazione errata, è uscito Sicca. Occhio all'occasione per la Nuova Ischia. Sul Santa Maria la Carità. Camorani. Attenzione alla trattenuta nettissima su Gianluca Saurino. Episodio da rivedere dalla mia postazione, francamente, sembrava abbastanza netta la trattenuta. La difesa dell'Afro-Napoli spazza in qualche modo. La tiene in campo Enrichiello ma mette praticamente in gioco Spila a botte. Attenzione a tu per tu Spila a botte. Con Mennella, ancora Spila a botte. Il passaggio per Suleman. 2-0 a Afro-Napoli. 2-0 a Afro-Napoli. Il 2-0 su cui Spila a botte ha servito l'assist per il tocco facile facile di Suleman. Ed è ancora l'Afro-Napoli ora ad attaccare Palumbo. Il tiro alla parata di Mennella. Attenzione rosso per Gianluca Saurino. Rosso per Gianluca Saurino che dice di non aver detto niente. Finisce qui la partita. L'Afro-Napoli espugna lo stadio Mazzella per 2-0. Reti a 0.